Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. In A11 l'area di servizio di Peretola Nord in direzione Pisa ha il camper service chiuso per interruzione dell'erogazione idrica. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata tra Badesse e Siena Nord con chiusura dell'entrata di Badesse in direzione Siena. Sulla statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori nel tratto compreso tra Fonte Blanda e Montiano in direzione Grosseto. Sulla statale 3 Bistiberina tratto e svincolo chiusi per lavori tra Val Savignone e Pieve Santo Stefano Nord. Per questi lavori è attivo uno scambio di carreggiata tra Canile e Pieve Santo Stefano Nord in direzione Viterbo Terni. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!